Cambiamo argomente Passiamo alla finale europea Invece che dobbiamo ancora giocare Con due finalisti italiane Partiamo quindi dalla prima che si giocherà Mercoledì O giovedì? Mercoledì Sono solo che il 7 Mercoledì Per me ho il 7 in testa E come la sta vivendo il tifoso della Fiorentina Questa finale tra l'altro L'ha giunta con il gol di Baracca L'ultimo secondo Con un Marianella spettacolare Io non l'ho sentito perché urlando Non riuscivo più a capire niente L'avrai risentito No l'ho risentito E' stato bellissimo La viviamo in modo Molto Cioè E' la data E' la data dove può cambiare qualcosa Anche perché poi Noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna E l'onore di giocare due finali E mentre la Il modo in cui siamo arrivati in finale di Coppa Italia Sono 4-5 partite La senti perché una finale c'è una Coppa in ballo Ma per arrivare in finale di confidenza La Fiorentina ha giocato praticamente Metà campionato in più La Fiorentina è la squadra che ha giocato più partite Penso sia la squadra in serie che ha giocato più partite di tutte Perché ha fatto i preliminari Poi ha partito dai sedicesimi Quindi Che era una cosa che all'inizio giocava contro Il calcio d'italiano Che è stato un allenatore che ha fatto Sempre un passo in più Ha fatto Si è sempre evoluto Ma quest'anno per la prima volta Ha dovuto gestire una squadra E metterla in campo Ogni 72 ore È stata una sfida che all'inizio ci stavamo perdendo qualcosa Sembrava non esserci la luce in fondo al tunnel Ma invece nella seconda parte abbiamo avuto un andamento da quarto posto Quindi questo giocare tanto le partite È servito tanto secondo me l'italiano A capire certe gerarchie Chi mette Come metterlo E anche i tifosi si sono fatti un'idea Su Da chi ripartire E chi magari mettere sul mercato Chi non è pronto La partita per me è fondamentale La sento tantissima Proprio perché ci abbiamo speso 18-19 partite E contro il Basilea Vedere sfumare un'occasione del genere così Già stavo impazzendo E speriamo sia qualcosa di spettacolare Anche gli ultimi 90 Perché poi dai rispetto alla Coppa Italia C'è anche proprio il fashion europeo Il fashion europeo Devo essere sincero Non me l'aspettavo Io due mesi fatti Dicevo preferivo la Coppa Italia Perché in Italia Vinci una Coppa in Italia Quasi anche per gusto nei confronti degli altri Bravi Degli altri in particolare Esattamente Però adesso Tirando le somme Abbiamo speso veramente Troppe energie mentali Fisiche Di tutto e di più Per la Conference League Anche perché Ricordiamo che per La classifica della Fiorentina Se vince Vai in Europa In Europa League Se perde No Niente Neanche Conference A meno che UEFA Entriamo in discorsi Dove la Fiorentina Non è merito Entriamo in altri discorsi Quindi è veramente Un punto Può essere un nuovo punto Di partenza Anche perché Poi andiamo anche A parlare del presidente Rocco Commisso Io lo reputo Una persona che Va anche lui Sull'entusiasmo Una persona che è disposta A spendere Se la squadra Vince un trofeo E vai in Europa League Per me Rocco Commisso Un colpo da 20 30 milioni Te lo mette Perché è un presidente Che ama il calcio Lo ama in una maniera Semplice Vera E vuole far bene Vuole far divertire In una città L'ha sempre dimostrato Secondo me Quindi per me È un punto fondamentale Della storia Della Fiorentina Della storia Del futuro prossimo Che sta per arrivare Della Fiorentina Quindi Ancora più Anche perché Dopo ragazzi Vi lascio la parola Si è visto anche Quello che ha portato La conferenza Alla Roma Vuoi per autostima Vuoi per attenzioni Vuoi per Soprattutto autostima E anche carica Dell'ambiente Stando la Roma Comunque Sempre stata in campo Oltre al colpo di Bala Che ha dato ancora Quel guizzo in più Però Ovviamente Alzare quella coppa Ha dato proprio Un fascino Totalmente diverso Alla stagione della Roma E al lavoro Di Gesù e Mourinho Quindi Per quanto magari Sia la competizione europea Di rango inferiore Però comunque Ha una sua valenza Secondo me Molto Molto importante Sempre una coppa europea Sempre un percorso Come ha detto Che ti porta via Energy Stavo guardando prima Se sono giusti i dati Di transfer marketing Da Terracciano Convocato 57 volte In stagione Ciò significa Che hanno giocato 57 partite Quindi è giusto dire Che hanno portato Avanti un qualcosa Che merita Secondo me Di essere coronato Non dico con la vittoria Perché non decidi Tu se vinci o meno Però Giocando la partita In modo da Vincere una competizione europea E iscriverti sulla cartina Geografica europea Come ha fatto la Roma L'anno scorso Se secondo me Di bala arriva anche Non dico soprattutto Solo per quello Ma Dice È una squadra che può vincere Poi lo fa in conference Magari l'anno prossimo Alzi il gradino Cerchi la qualificazione In Europa League Non mediante la vittoria Di un trofeo Ma Su un percorso di 38 gare Come il campionato E Però Tanto Tanto della fiorentina Si deciderà La vittoria o meno Della conference Ma soprattutto Con la permanenza O meno Secondo me Di italiano Perché si lascia Nelle mani Di Magari Il successore Un gran lavoro Ma averlo o meno Secondo me Ti fa tutta la differenza Del mondo Assolutamente E io sono Super fan Di Di italiano E Credo che questo È lo step Che dice Aedo C'è un allenatore Che ha sempre alzato L'asticella E è una roba Da pazzi Pensandoci Perché non ha Non ha mai sbagliato Praticamente un anno E Secondo me Lo so che è una cosa Molto juventina Da dire Ma La finale Vincerla o perderla Ovviamente cambia tantissimo Ma non nel percorso Cioè una finale Vale veramente Tanto Tanto Anche no Nel giudizio Della Roma Il giudizio Della Fiorentina Fa due finali Non può mai essere Una stagione Inferiore A quella dell'anno scorso Secondo me Fa parte del processo Poi Sono quei 90 minuti Che ti hanno Tolto tantissimo Eventualmente Ma Ma non cambia Non cambia il processo Della Fiorentina Frutto di un grande Lavoro italiano Ed è Molto interessante Quello che ha detto Aedo Che si è accorto Da tifoso Di un allenatore Che ha bisogno Di Alcuni palcoscenici Ha bisogno di Capire Come gestire Alcune dinamiche Quando parliamo Magari di Alcuni allenatori Come li aspettiamo Quando li vogliamo In grandi squadre Dobbiamo anche capire Che hanno bisogno Di quel processo Lì Cioè si è accorto Che stava giocando Tante partite Ok come muovo Le mie pedine E in questo Comunque la Fiorentina Secondo me È molto avvantaggiata Da un mercato Molto ben Sotturato Cioè la Fiorentina Comunque ha Due squadre Non dico di Altissimo livello Ma ha due squadre Costruite Con quel modulo Con quelle caratteristiche Togli l'uno Metti l'altro Ed è tanta roba Per una squadra Sì sì Simo Vengo anche da te E concordo Soprattutto con Questo ultimo Discorso Relativo alla Costruzione Della Rosa Io quando ho visto Giocare la Fiorentina Non solo contro Contro la mia Inter Ho sempre notato Questo Comunque una squadra Che dalla panchina Può pescare Comunque giocatori Interessanti E che secondo me Anche e soprattutto Grazie alla Diciamo All'approccio Che ha dato l'italiano Ha quella Diciamo Spavalderia positiva Che la può portare Anche su palcoscenici Così importanti Come alla finale Della conference Magari a vincere Quindi Secondo me Da questo punto di vista Ce la può fare Io personalmente Me lo auguro E devo dire Che come Vi ascoltavo anche Lunedì scorso Lorenzo diceva appunto Che contro l'Inter La Fiorentina Nelle tre partite Che ha disputato Ha sempre fatto Ottime gare Ha sempre messo in difficoltà Inter E anche questo appunto È un segnale Cioè una squadra Che Ha la possibilità Per valori tecnici Per valori Anche mentali Secondo me Di mettere in difficoltà Chiunque E quindi Contro West Ham Ci deve assolutamente Provare Abbiamo preparato Luca qualche Qualche piccolo dato No Sì Sul West Ham Abbiamo un po' Ci dobbiamo scusare Con i tifosi De la Fiorentina Allora Io te lo dico subito Tu fai quello che vuoi Sotto il tavolo Tanto non siete Tengo le mani sotto Allora Il West Ham È una squadra Che non ha performato Bene quest'anno E i dati Ce lo raccontano Spicca In un solo dato Che è un classico Delle squadre Che fanno fatica Cioè i cross Cross veramente tanto E in questo Mi direi tu Se soffrite O meno Questo aspetto Non è una squadra Che consolia il possesso È penultima Per percentuale Di possesso Palla in Premier Quindi è una squadra Molto verticale Questo A mio parere Può essere un problema Per la Fiorentina Perché la Fiorentina A sua volta È una squadra Molto verticale Il che vuol dire Che il West Ham Se dovesse andare Negli spazi Gli spazi li troverà Perché con la Fiorentina Gli spazi li trovi Poi li devi sapere Sicuramente Sfruttare bene E deve essere Ovviamente la Fiorentina Brava A non farteli Sfruttare Però per far capire Quanto poco arrivi Di manovra Il West Ham È penultimo Per passaggi Dentro l'area Di rigore In Premier League Quindi Secondo me È una squadra Totalmente In difficoltà Che va molto verticale Ma va verticale Per davvero Cioè non è che Cioè è 1-2 E si va avanti Se la prendo bene Altrimenti Ci si rintana Dietro E si ricomincia Quindi Tatticamente Secondo me La partita Della Fiorentina Deve essere una partita Sì attenta Perché Gli spazi Li concederà Ma credo Che possa essere Facilitata Dalla possibilità Di andare Anche in 1-1 Contro una squadra Che secondo me Con la linea 4 È molto attaccabile Abbiamo visto invece La Fiorentina Che nel primo tempo Soprattutto con l'Inter La difesa a 3 Dell'Inter L'ha saputa Accerchiare Molto bene Però secondo me Poi nel secondo tempo Non ha saputo Sfruttare bene Gli uno contro uno Perché c'erano Costanti raddoppi Invece col West Ham Lì vai proprio Ecco Nico González Coltersino Che c'era gioioso Guarda Io ti dico La Fiorentina Per me Soffre molto di più Una Juventus Che magari Sta più dietro Piuttosto che una squadra Più aperta Che cerca lo spazio Ma te lo concede Infatti Tra tifossi La Fiorentina Ci si chiedeva Per andare in finale Di Coppa Italia Ma è meglio la Juve O meglio l'Inter A parte Il dopo In caso di sconfitta Io ti favo Inter Se devo perdere Contro l'Inter Però a livello Proprio di gioco Con l'Inter I Fiorentina-Inter Inter-Fiorentina Di quest'anno Sono stati Molto belli Da vedere Tutto Mentre con la Juve La Fiorentina Ha sofferto Veramente tanto Contro la Juventus Nonostante Non è sicuramente La miglior Juventus Degli ultimi anni Ma perché è una squadra Che si chiude Quando l'italiano Vede la squadra Che si chiude La sensazione Che ho da tifoso È che La Fiorentina Soffre veramente Veramente tanto Una squadra Che ti aspetta La Fiorentina Stava per uscire Contro il Basilea Perché aveva capito Che io sto dietro E con tre passaggi Vado in un'area di rigore E la Fiorentina Ci ha perso l'andata E per Fino al settantissimo Era fuori Dalla Conference League Quindi io sono contento Che il West Ham Sia una squadra Come dire Che sta avanti Cerca spazio Il baricentro è basso Il baricentro è basso Dai dati E poi Questa è una cosa Che più che altro È uno spunto mio Io credo che La Fiorentina In italiano Sia uno spettacolo Tattico Ma credo sia Abbastanza Facilmente Inquadrabile Da una squadra Avversaria Cioè Tu hai avuto Due settimane Tre settimane Per studiare La partita contro la Fiorentina Cioè secondo me Sai bene Come affrontarla Poi La Fiorentina È molto brava Perché tutti sanno Come pressa in avanti Eccetera eccetera Quindi dipende Secondo me Dalla Fiorentina Come andrà Però Sai benissimo Come ti affronta La Fiorentina Quindi Su questo Il West Ham Credo che Ha messo un po' In crisi Secondo me In inizio stagione Perché l'italiano È arrivato addirittura A cambiare modulo Sì Proprio perché Come dici te Era diventata prevedibile Passata un 4-2-3-1 Da un 4-2-3 Che l'italiano Solo 4-2-3 Che 4-2-3 Quindi effettivamente È una cosa Poi Di difetti Dalla Fiorentina Ce ne sono In difesa C'è qualcosa Che non va evidente In Serie A Se non sbaglio Ci sono stati 3 assist Da parte dei portieri 2 Per questa La Fiorentina Chiaro Chiaro Contro la Salernitana Abbiamo preso 3 gol Da DA In modo Pazzesco Da solo Da centrocampo All'area di rigore Non lo prende nessuno Ci fa 3 gol Dove un tifoso Della partita Ora è chiaro Un problema Come Lautaro Stiamo parlando Finale di Coppa Italia La chat Direttore sportivo